Signor Sindaco, anche Dolcedo aderisce a Io non rischio, una piazza a disposizione della prevenzione. Buongiorno a tutti, sì, una piazza a disposizione della prevenzione, un servizio che la protezione civile offre molto importante e altrettanto importante, e mi rende anche orgoglioso il fatto che la protezione civile abbia scelto la piazza di Dolcedo, la piazza principale di Dolcedo, per questo stand, per questa manifestazione, questo coinvolgimento di cittadini in questa iniziativa Io non rischio. Mi fa doppiamente piacere come sindaco perché l'anno scorso abbiamo come amministrazione avvallato, approvato un nuovo piano di protezione civile, che peraltro l'avete esposto, e quindi diciamo, la questione è sicuramente interessante e mi inorgoglisce dal punto di vista della protezione civile, primariamente per quello, e poi anche perché avete scelto la piazza di Dolcedo, quindi evidentemente significa che Dolcedo, pur essendo un piccolo paese dell'entroterra, offre un'appettibilità anche dal punto di vista della comunicazione e degli eventi, non dico tale da fare concorrenza alle città della costa, ma comunque a un livello tale che come sindaco mi soddisfa.